Abbiamo bisogno di tutte le forniture fondamentali per combattere l'impennata dei contagi e la richiesta che ieri il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha esposto durante l'incontro con il Ministro della Salute Roberto Speranza e con il Commissario Domenico Arcuri. Nel corso del meeting si è fatto il punto sulla situazione Covid che in Campania diventa sempre più critica. Nella giornata di ieri si sono registrati ben 757 casi positivi. Le decisioni prese sono pienamente rispondenti alle esigenze della campagna e all'obiettivo di garantire la sicurezza per i nostri concittadini. Si è deciso, quindi, di seguire con continuità l'evoluzione dell'epidemia, in un rapporto di collaborazione stretto con il Ministro della Salute e il Commissario Delegato, ha affermato De Luca. Il numero elevato di contagi registrati vede una grande prevalenza di asintomatici destinati quindi all'isolamento domiciliare, ha continuato il Governatore. Ma questo richiede l'impegno straordinario di personale medico e infermeristico per seguire pazienti nel periodo di isolamento. Il Presidente della Regione ha deciso di chiedere alla Protezione Civile la messa a disposizione, nei tempi più rapidi possibili, di personale medico e infermeristico volontario. Il momento difficile del Covid-19 non è alle spalle. È ancora davanti a noi. Prepariamoci ad avere mesi, se le tendenze in corso si confermano, ancora più pesanti di quelli da gennaio a maggio, ha concluso De Luca.